Cari amici, sono Ambra Mattioli e sono qui per annunciarvi questa bella iniziativa che ha preso forma magicamente. Io sono un'italiana e sono un'italiana fortunata perché ho ancora i miei amici, ho tutti i miei cari e ho la mia casa. Ecco, altrettanto purtroppo persone che non conosciamo ma che sono italiani come noi non ce l'hanno più questo. Mi riferisco soprattutto ai loro cari e agli amici. La casa si può ricostruire ma in effetti no. Noi non possiamo fare niente per questo ma possiamo in qualche modo contribuire. Ecco, io vorrei proprio che questa cosa che abbiamo messo su fosse per loro al 100%, quindi senza intermediari, senza dazzi da pagare. Ecco, diciamo così. Ecco, io mi sono attivata e ho trovato dei cuori grandissimi. Non avevo dubbi nei musicisti che li conosco personalmente che hanno un cuore grandissimo, ma anche fonici, imprenditori che hanno messo a disposizione lo spazio, eccetera. Quindi vi annuncio con estremo piacere e con orgoglio che abbiamo messo su questa iniziativa Pro Terremotati e che si svolgerà il 17 settembre a via B Bossi 7, angolo via Ostiense, negli spazi di caffè letterario estate e gentilmente messo a disposizione dall'Arena di Roma, un centro culturale. Abbiamo una rassegna di 12 gruppi musicali che si avvicenderanno sul palco, ci sarà una ristorazione a prezzi nazional popolari e poi alla fine apriremo questo grande salvatanaio che viene messo a disposizione per le offerte che verranno fatte e lo romperemo insieme, verrà documentata questa cosa e conteremo questi soldini, che spero siano veramente tanti, da mandare poi al sindaco, il signor Sergio Pirozzi, con il quale sono già in contatto e che mi ha invitato a venire personalmente ad Amatrice o in quello che ne resta a consegnare questa cosa. Per tutte le persone che non possono essere presenti o impossibilitate per vari motivi, abbiamo aperto un post pay a nome gentilmente di mio marito perché io non ne ho neanche uno e bisogna solo indicare la causale, la causale è anche il nome dell'evento, noi oltre le macerie, mettere quello che uno vuole naturalmente e poi noi pubblicheremo l'estratto conto di questa carta e quindi esattamente quello che ci sarà noi lo gireremo e questo poi lo documenteremo ampiamente in maniera cristallina. Quindi io non posso altro che invitarvi e dire venite numerosi, siamo qua e per una volta tanto i santi in paradiso siamo noi.